I cittadini causati dalle emissioni dell'ILVA, ieri in diretta nei nostri studi, il direttore generale dell'ARPA Puglia, Giorgio Assennato, si era dichiarato ottimista, di tutt'altro avviso però, gli ambientalisti tarantini. Sentiamo Michele Pisani. Medici ambientalisti su posizioni critiche dopo le dichiarazioni sulla qualità dell'aria a Taranto, rilasciate ieri al nostro telegiornale dal direttore generale dell'ARPA Puglia. Questa in particolare è la frase incriminata. Quello che si può dire è che ora, anche grazie alla chiusura di 7 batterie di cocherie su 10, la qualità dell'aria a tamburi è eccellente. Il presidente della sezione pugliese dell'Associazione Internazionale Medici per l'Ambiente, Agostino Di Ciaula, replica ricordando che sabato scorso a Taranto i valori di particolato erano quasi il triplo della soglia consentita per legge e proprio il particolato, puntualizza il medico, e la causa di patologie tumorali e non, come dimostrano lo studio Sentieri, le perizie della magistratura e i dati sui ricoveri dell'osservatorio epidemiologico regionale. Il presidente di Peace Link invece usa carta e penna per confutare le parole di assennato. A Taranto il PM10 ha un potere in termini di impatto mortale 2,2 volte superiore rispetto al PM10 di altre città italiane. Io mi baso ad esempio sull'ultimo dato dell'ARPA nel quartiere dei Tamburi, il PM10 è a 29 microgrammi a metro cubo, però se consideriamo questo coefficiente di 2,2, questi 29 microgrammi a metro cubo hanno un impatto tossico equivalente a 64 microgrammi a metro cubo e siamo a un livello superiore rispetto al limite di 50 fissato dalla legge.